Beatrice perché ti tappi le orecchie? Sono disperata Alfonso Sei disperata eh? Temi che esca Stefano? Chiunque esca però sono due persone che sono importanti per voi Anche se uscisse Sergio sarei molto dispiaciuta perché appunto tra le strategie c'è anche quello di eliminare piano piano tutte le persone a cui mi affeziono O le relazioni che creo Questa è la strategia secondo me più dura in questa fase del programma E loro sono due persone al di là di me veramente solide che hanno dimostrato coraggio, coerenza, coraggio di dire quello che pensano, di essere quello che sono Al contrario di molti altri qui che fanno gruppo e non si espongono mai Eravate un tutt'uno quindi privarvi di chiunque di loro, di uno di loro so che deve essere dura Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti